Sorgerà all'inizio del 2016 il campo rifugiati di Calais, dove lunedì si sono recati in visita ai commissari Timmermans e Avramopoulos, insieme a loro anche il primo ministro francese Manuel Valls. Dopo mesi di crisi e tensione, la cittadina francese attende ora di ricevere nuovi finanziamenti da Bruxelles, in modo da migliorare la vita quotidiana di migliaia di profughi. Metteremo a disposizione della Francia altri 5 milioni di euro. Si tratta di nuovi fondi necessari a creare accampamenti e a offrire assistenza umanitaria a circa 1.500 migranti, oltre che a garantire il trasporto dei richiedenti asilo da Calais verso altre destinazioni in Francia. La conferenza stampa dei commissari europei è stata interrotta dalle proteste delle Femena che accusano l'Europa di aver racchiuso gli occhi davanti alle oltre 200.000 vittime siriane. Quello che la delegazione istituzionale però non ha potuto visitare per ragioni di sicurezza è la cosiddetta giungla di Calais. In questo spazio, fuori da ogni criterio di civiltà, vivono circa 3.000 persone, la maggior parte delle quali cerca ogni giorno di forzare le barriere nel tentativo di accedere all'eurotunnel e raggiungere quindi il Regno Unito. Quest'area è chiamata la giungla. La situazione è ormai al limite. Le persone vivono in condizioni disperate. È qui che negli ultimi mesi le autorità francesi hanno costruito una barriera per evitare che i migranti raggiungano l'autostrada e saltino sui camion diretti in Regno Unito. La teherautókat vedi, a rájuk felkapaszkodni próbálò migránsoktól.